Salve a tutti e bentrovati. Sono il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Belforte del Chienti, Paolo Lozzi, e sono qui per invitarvi. Sabato la nostra scuola sarà eccezionalmente aperta per accogliere tutti coloro che desiderano iscrivere i propri figli nel nostro istituto. Potete visitare la scuola dell'infanzia, degli accoglienti plessi di Monte Monaco e Pollenza, la storica scuola primaria di Palatucci e la scuola secondaria di primo grado di Fellini, completamente rinnovata. Sabato mattina i nostri docenti ed i nostri studenti vi aspettano in ogni plesso per mostrarvi le palestre, i laboratori, le aule, il teatro, i bibliopoint, il caffè letterario, la piste di atletica e tanto altro ancora. Inoltre ci saranno moltissime sorprese. Vi aspettiamo dunque. Sabato non mancate!